Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato a Sid Meier Civilization 6 con la bella Cleopatra. Bella ma anche furba, perché la bella Cleopatra potete vedere sta guidando la classifica per vittoria diplomatica e ci sono delle buone probabilità che possa anche sganciarsi e arrivare più in alto. Mentre invece a quanto pare sulla scienza fa ancora fatica ad agganciare un portogallo che è sopra di ben 6 tecnologie e di un bel po' di punti scientifici. Però non tutto è perduto e in questo episodio cerchiamo di capitalizzare i vantaggi che abbiamo costruito fino adesso, sganciarci il più possibile dagli altri, cioè staccare dagli altri anche scientificamente. Per farlo ci serviranno tanti grandi personaggi, stiamo lavorando per i grandi ingegneri, quindi salteremo a alto ma prenderemo il prossimo e prenderemo anche il prossimo, non sarà Schrodinger. Andiamo avanti adesso sempre con le infrastrutture, anche qui costruiamo un campus che va a essere piazzato nel deserto, mentre biblioteca e università a Memphis vengono acquistate in tempo zero. Benissimo. E quindi adesso la scienza passa da 208 a qualcosina di più. Bene, ora, forse ristudio campus anche a Memphis. E fatta la banca, qui andiamo a fare un campus anche a Mendez, che tra l'altro aveva degli ottimi bonus vicinanzi, non me ne sono mai accorto. Però non prendo il più 2 perché qui vado a rubacchiare risorse e prendiamo questo. E ora, Necken mi può lavorare ad una cancelleria. Avanti tutta. Avanti tutta, prossimo turno vedremo la scienza che sale, e non di poco, e inizieremo ad avvicinarci alla produzione scientifica del Portogallo prima in classifica. Infatti siamo a 221. Ok, questa spia può rimanere tranquillamente a fare controspionaggio perché ci siamo accorti che non sono lo spione perfetto. Si può fare molto di meglio. Produzione. Completato il costruttore di Suenet, andiamo a fare un boost alla scienza. E presto avremo l'elettricità che ci permette di costruire una diga idroelettrica e le raffinerie di petrolio. Questa è la tecnologia più importante che poteva capitarci. E per ora rimaniamo così. Dobbiamo arrivare alla democrazia. Prendiamo la radio. Titolo governatore. Allora, promuoviamo il nostro capitano d'industria. Perché adesso Suenet io compro la centrale petrolio. Che inizierà a produrre energia elettrica, sfruttando petrolio. Mentre a Barinas farò un'idroelettrica e anche a Rakedet. E questo dovrebbe dare l'energia anche a Memphis e Juno. Se ho fatto bene i conti. Se non li ho fatti bene, m'attacco. Ma penso di averli fatti bene. Ma se non li ho fatti bene, li attacco. Avanti. Perché Suenet adesso non ha... Scusate, perché non ha ancora l'energia? What did they do? No, aspettate. La nostra produzione di energia ha inizio. Ah, sì. Guardate che Suenet adesso dà energia anche a Barinas e a Rakedet. Quindi le nostre fabbriche spingono. Fatemi vedere Barinas quanto adesso produce. 10 donne industriali, più 3 bottega, più 8 fabbrica. Più 3 perché ha l'energia. Rakedet. 10, 3, 8 e 12 della centrale a carbone. Benissimo. Benissimo. E ok. Fatta la diga. Io avrei fatto la diga idroelettrica che dà un bel più 6. E qui pure. Poi tutta questa energia ci servirà per dare anche Yunun e Memphis. Ah, tra l'altro c'è ancora l'esposizione universale in corso. E noi siamo in terza posizione. Dobbiamo cercare di fare più progetti possibili, ragazzi. Abbiamo 4 turni. In 3 turni riesco a fare un progetto per i campus. Uno l'abbiamo fatto, qui riesco a farne un altro ancora. Dobbiamo cercare di arrivare almeno in seconda posizione, sarebbe utilissimo. Sarebbe utilissimo. Poi faremo la diga. Dannazione, con loro avremmo ottenuto un punto di vittoria diplomatica, ma non riusciamo ad arrivarci. Perché purtroppo Joao è spettacolare con queste cose e non ce la facciamo. Damn it. 3 turni ancora, ok. Eh, vedremo cosa riusciamo a fare, ma non sono molto convinto. Non sono molto convinto. Inondazione moderata, ma tanto siamo egizi, quindi non ci fa la mazza. Andiamo a vedere fra due turni, 2004-2007. L'argento che cosa vince? Supporto diplomatico e due impulsi civici. Ce la faremo a secondo per superare il Brasile? Provate a scrivere nei commenti senza sbirciare che cosa succederà più avanti. Provate a vedere, dai. Adesso si va di progetti, come se non ci fosse un domani. E poi sblocchiamo la chimica, così possiamo fare i laboratori. Porse di studio, va bene. Adesso diga idroelettrica. L'alleanza con Alessandro si rinnova. Era militare, se non erro. E Alessandro mi dava esattamente. Mi dava anche un po' di mercurio. Ora, Memphis mi ha fatto il campus. Riceverà l'energia da Rachedet. Facciamo un porto internazionale. E qui possiamo comprare una biblioteca. E possiamo lavorare ad un'università. Tu invece continui a girare da solo. Turno successivo, non guardo il punteggio. Incrocio le dite e basta. Tutte e due le incrocio. Anche se non sarà facile. Sblocchiamo i mass media. E teniamo. Mass media, si dice correttamente. Perché quando c'è una parola inglese, la parola latina si legge in inglese. Questo ho imparato per la grammatica italiana. Cosa che non sapevo prima. Dicevo anche io mass media, pensando giustamente al latino. Ma o diciamo media e poi massa lo dicevo in latino. Non so se dice masse, ma non penso. Oppure diciamo in inglese mass media. Ma comunque, questa è una cazzata. Niente, arriviamo in terza posizione. Guadagniamo un boost e basta. Ma posso sbloccare un grande personaggio. In particolare a alto che passo. E posso dare un titolo governatore. Promuoviamo adesso l'integrazione verticale. Questa città riceve produzione da tutti gli edifici delle zone industriali vicine. Che forniscono bonus regionali. Non solo dalla prima. Quindi Barinas adesso, secondo me, avrà un sacco di produzione. Quindi se nel prossimo turno andiamo a Barinas, secondo me guadagna un sacco di produzione. Quando avremo le dighe. Per faremo la gara di chi è la città più produttiva. E voi chi sareste? Sì, siamo arrivati i terzi. Intanto, visto che i soldini non mancano, qui troviamo dei nemici che ci vengono a rompere le palle. Miglioriamo l'esercito. Miglioriamo l'esercito che è ora. Porto internazionale. Snodo commerciale, why not? Ma scusate, ma ecco, infatti mi dicevo, Schrödinger non lo pigliamo noi. E in teoria sì, fra poco sì. Fra poco lo pigliamo noi, Schrödinger. Però lo mollo, perché voglio Einstein, che è meglio. Sempre che non sia già stato preso. Ma non mi sembra, perché ho buttato un occhio. Adesso controlliamo se Einstein è già andato. Ma ora c'è il congresso mondiale, quindi devo stare attento. Il turismo ottenuto dai capolavori di questo tipo è raddoppiato. Quando l'abbiamo fatto l'ultima volta, sono stati votati i libri, se non sbaglio. Se non sbaglio, prendo ancora scritto. Trattato energetico globale. La costruzione di edifici di questo tipo è bandita. Simon Bolivar vuole la produzione di edifici di questo tipo con uno sconto. Bolivar ha il carbone. Io voto carbone. Se vince guadagniamo punti. Il giocatore prescelto guadagna due punti di vittoria diplomatica. Noi abbiamo mille punti. Se questi due si mettono insieme, ne hanno altrettanti, io voto me stesso, con tutti i voti che ho. Non posso farlo altrimenti. Voto con 15. Se vinco guadagno due punti e salgo 14. E se perdo, me li tengo io. Ok, ho vinto due punti diplomatici. Sono state bandite le centrali carbone. Abbiamo perso. Il turismo ottenuto dai capolavori raddoppiati. E l'ho scritto, quindi abbiamo guadagnato tre punti vittoria diplo. Golden Gate prodotto. Qui abbiamo bisogno di un po' più di... Ah, come si dice? Abitazioni. E se vado a vedere adesso, siamo a 16 punti su 20, ragazzi. Mancano 4 punti per una vittoria diplomatica. Scemo alla produzione. Diga pronta. Il mercato alimentare ci dà più cibo. E quando abbiamo anche più elettricità, ancora più cibo. Quindi lo prendiamo subito. Avanti. Però Junu non se lo prende. Ah, è troppo lontana. E anche Memphis. Penso che dovrò veramente fare una centrale a petrolio qua sopra. Peccato. Richiesta di aiuto. Joe è stato devastato benissimo. Signori, possiamo cercare adesso di vincere ancora due punti diplomatici aiutando il disastro che è accaduto a casa di Joao. E siamo in competizione soltanto con Gilgamesh e... Questa cosa non ha... Siamo soltanto con Gilgamesh e Pedro. Perché gli altri non vogliono partecipare. No, ma questo è incredibile. Questo è incredibile. Qui facciamo uno scostruttore perché faccio le fattorie che mi aiuteranno. E qui anche le olive me le sono state distrutte quasi. Le devo riprendere. Diga idroelettrica completata. Andiamo di invio aiuti. Come se non ci fosse un domani adesso. Pianor non arriva, eh. Ah, peccato. Porto internazionale, invio aiuti. Attenzione che però qui, scusate, mi stanno distruggendo... Maledetti. Mi stanno distruggendo nelle università. Al prossimo cambio carte penso che rimetterò la possibilità di fare gli upgrade alle unità militari e ci rifacciamo un po' l'esercito perché al momento le... Uh... Sì, accetto lo scambio. Va bene? Fermi tutti. Fermi tutti. Fermi tutti. Fermi tutti. Fornisce 3000 produzione per la costruzione di un progetto spaziale. Sagan. Dobbiamo assolutamente prenderlo. E tra l'altro adesso voglio vedere... Mary Vickie è stata presa. Margaret Mead è stata presa. Schrodinger è stato preso. E Yanaki Amal. Tutti nello stesso turno. Hanno usato i soldi per prenderli. Però io a questo punto mi chiedo... Ma in passato... Nobel Turing... Einstein è già andato. Einstein è già andato nel 1170. E a questo punto... A questo punto cerco di prendere Sagan. Intanto andiamo sulla missilistica. E mandiamo gli aiuti con tutte le città possibili. Perché dobbiamo assolutamente vincere in questa gara. Ci teniamo alla scientifica come backup. Ma dobbiamo vincere a questa gara. Memphis intanto aggiusta la propria biblioteca. Forza. Ok. E Barinas ci eravamo promessi di guardare le rese. Rachele 106. Ah beh a parte che si possono... Guardate che mi danno i monumenti in cambio del petrolio e delle risorse. Questa è bella. Lo posso vedere da qui in realtà ragazzi. Barinas non ha tutta questa produzione che uno si aspetterebbe. 49. Rachele 106. Seguinette 80. Molto buono. Memphis 79. Molto buono. Però alla fine è la capitale con... Con la Rur che fa la differenza qua. Tanto stiamo guidando con 400 punti. Se vedo che quegli altri non si muovono tanto. Abbasso un pochino gli aiuti nei confronti di Joao. E provo a... E provo a dedicarmi un po' più alla scienza. Qui abbiamo il porto internazionale a Junu. Sapete cosa faccio adesso? Una bella fanteria moderna. E qui inizio a migliorare. Non aspetto nemmeno ragazzi di avere gli sconti. Perché tanto i soldi ci sono. E le carte servono ad altro. Torre Eiffel costruita. Inviati gli aiuti. Campus. E Campus. Avanti tutto. Questo non puoi diventare... Ah, serve un po' di petrolio in più per diventare fanteria. Ok. Questo è bello. E anche un po' di soldi in più. In antoscienza 261 stiamo per arrivare al livello di Joao? Eh sì. Eh sì. Perfetto. Basta, aiuti. Campus. Siamo 800 punti con gli altri a zero. Gli eclissiamo e ci portiamo a casa questi 200 voti ragazzi. Adesso il nostro obiettivo è quello di mettere da parte più supporto diplomatico possibile. E vediamo. Intanto qui sblocchiamo. Goddard. Attiva l'Eureka per la missidistica. Più 20% produzione e costruzione dello spazio. Ingaggiamo. Ingaggiamo Goddard. E lo mettiamo subito qui. Così sblocchiamo la missidistica subito. E poi lo mettiamo anche a Memphis. Oppure lo mettiamo a Suenet, che è la seconda città per produzione. E fatto il laboratorio, iniziamo lo spazio porto di Rakedet, che metteremo qua, dove non c'è una grande produzione. E' fatta questa cosuccia. Meraviglie che possiamo fare al momento. Sono finite le meraviglie. Peccato. Vediamo se da un incombidato che ci permettono di vedere l'uranio. Ok. Ok. Torno successivo. E qui facciamo a Memphis una raffineria di petrolio. Ok. Entriamo nell'epoca atomica con epoca normale. O scura. No, normale. Ora. Costi di mantenimento dell'unità ridotto di due. Bonus vicinanza campus industriale migliorato. Diritto di passaggio con tutta città-stato e più 4 punti influenza per ottenere emissari. Ottimo. Prossimo ingegnere fornisce più produzione per la vittoria spaziale. E siamo messi abbastanza bene. Dobbiamo lavorare entrambi. Sia scienza sia ingegnere. Quindi non perdiamo tempo. Logistica industriale ovunque. Che cos'è che perde lealtà? Mendes sta perdendo lealtà addirittura. Ci dovrò mettere un... Dovremmo attivare magari un... Victor. O un Moxa, no? Un Victor prendiamo. Va bene. Completato borsa di studio campus. Anche logistica zona industriale. Perfetto. Intanto mancano 20 turni per la richiesta di aiuto. E Pedro ha già fatto 200 punti. Noi 800. Cioè già ha fatto. Ha fatto 800 punti ma noi siamo molto più avanti. Positivo. Positivo. Molto positivo. Perché ci concentriamo a questo punto nel rubare i grandi personaggi che sono molto più importanti per... Se non altro per rubarli a chi vuole prenderci la vittoria scientifica. Quindi se li prendiamo noi è meglio. Però ora. Finalmente. Democrazia. Le tue rotte commerciali dirette verso una città alleata di cui sei sovrano. Che fanno? Che fanno? Forniscono più 4 cibo e più 4 produzione a entrambe le città. I punti alleanza con ogni alleato crescono di 0,25. Inoltre sconto degli acquisti in oro. Levei maschi in pennale a razionalismo li teniamo. Prendiamo New Deal che da abitazioni è attrattiva con le città con tre distretti finalmente. Di pronuncia delle armi, Vise e il banca lo teniamo. Invenzione e Più 10% ore in tutte le città con un governatore. Questo sarà d'aiuto proprio poi per comprare gli edifici. E Il programma nucleare non è male? Vediamo se qui riesco a fare una bella meraviglia. Stadio di Maracanà più attrattiva e più cultura. Quello sport professionistico. O qui addirittura potremmo andare verso il teatro dell'Opera di Sydney per la cultura. E ho pure la stazione di ricerca a Monsenskot. Proviamo con questa. Proviamo ad andare qua. Perché no? Ok. Su Enet. Il laboratorio lo compriamo. Investi in campus. Tu esplori. Emissario. Mi devi prendere L'Aore. Così diventiamo sovrani. E in Ammandolan iniziamo. Perfetto. Ok. Turno successivo. Non stiamo guadagnando tantissimo oro comunque. Speravo di più. E adesso abbiamo un'unità di fanteria finalmente. Sì. Perfetto. Qui è un anticarro che è un'infanteria. Il nostro esercito 546. Diciamo che non è il migliore del mondo però non fa schifo. Qui tutti a lavorare sulla scienza. Tutti a lavorare sulla scienza e i grandi scienziati. Intanto mettiamo da parte un buon quantitativo di supporto diplomatico per i prossimi voti. Perché anche se vinciamo la richiesta d'aiuto non basterà per la vittoria diplomatica. Purtroppo. Ci serviranno altri voti. E poi non dimenticate che i nemici faranno coalizione per cercare di buttarci giù. E di votare contro in modo che perdiamo punti. Anche quello è un problema. Ok. Su Enet fa il laboratorio di ricerca adesso perché comunque qua ci arriviamo secondo me. Sugli ingegneri sono meno convinto però vediamo. Ok. Ambionics. Amicizia. E alleanza economica. E adesso proviamo a vedere gli scambi. Le balene ce le abbiamo. Il sale no. E quindi questo si può fare. E poi proviamo a vedere... No. Basta. Basta così. C'entra il petrolio a Yunu. Perché da un sacco di tempo che siamo sempre senza energia. E dobbiamo provare a portare il petrolio a Yunu. Così va più veloce. Il marmolo dojo hao che mi può dare il tè. Dimenticavo. Benissimo. Allora Joao. Scambio. Marmo extra per... Ah Giada. Anche meglio. Ok. Qui facciamo un laboratorio di ricerca. Ti prego dimmi che ci siamo. Ma 83 punti. 3.177 su 3.375. Abbiamo ancora qualche progetto in corso? Sì. A Mendes fra due turni. Più ovviamente la produzione normale. Però è importante fare questi laboratori chimici. Perché probabilmente mi daranno modo di passare in testa. E di superare di nuovo i galli. Che adesso sono di nuovo a 425 punti. E sono quasi impossibili da superare. Però ci proveremo. E secondo me possiamo riuscirci. 1.2.3. Qui. Questo petrolio non riusciamo a prenderlo. Ma che peccato. Ok. Abbiamo le armi combinate. La richiesta d'aiuto dobbiamo darci dentro. Perché altrimenti finisce male. E qui... Io a questo punto brucio la fede o... O rischio. Rischio. Non brucio la fede perché potrebbe servirmi alla fine. Potrebbe servirmi alla fine. Laboratorio. Avanti. E adesso questi tre. Questo trio qui lo faccio fuori con le caravelle. Questo lo faccio fuori con le caravelle perché hanno rotto le palle. Va bene. Ve lo porto a casa ragazzi. Mi porto a casa questo scienziato. Car Sagan che mi dà... Mi dà un bel boost al... Alla costruzione di progetti nel caso. Car Sagan o Sagan. Non ricordo. Ok. Serve... Serve a Mendes. Ok. Va bene. A Mendes servono più abitazioni. Ce la facciamo secondo me a buttarle giù tutte queste natissime galè pirata. Che sono qui da duemila anni. Sono i pirati berberi che hanno rapito Giulio Cesare. Che non erano berberi al tempo ma abbiamo... Avete capito cosa intende? I pirati nordafricani che rapirono Giulio Cesare. Eccoli qua. Distrutti nel 1765. Ok. Fermi tutti perché adesso abbiamo lo spazio porto. Ovviamente non uso subito Sagan. Lo aspetto per la missione su Marte. Nel caso in cui non si vincesse con la diplomazia. E andiamo dritti dritti a questo punto ai materiali composti. No, ai satelliti. Volo avanzato e satelliti. Intanto iniziamo a lanciare i satelliti terrestri. Che è la prima cosa che si fa. E poi tanti tanti progetti per portare Corruolev a casa nostra. Che varrà doppio. Quindi anche Corruolev sono 3000 punti. Tu, tu, tu. Adesso ogni tre turni abbiamo i progetti in ogni città che vanno a farmare punti, grande ingegnere. E qui avremo delle spezie però. Chiedo scusa, ma io queste spezie me ne vado a fattare. Non me ne ero accorto. E inviamo gli aiuti perché fra sei turni qui finisce. E guarda un po' chi ci ha superato. Pedro il brasiliano. Allora. Prendiamo Volin di nuovo. Antana in arrivo, pian piano. Ci ha superato ovviamente. Ma poi riempiamo Joao di oro alla fine e la vinciamo così. Ok, tutti i grandi scienziati sono stati presi. Ho fatto bene di utilizzare la fede perché sui grandi scienziati non l'avrei più fatto in tempo. E adesso la sfrutto anche per Korolev perché ho paura che dopo di lui... Vabbè, Rebling. Non so neanche che cosa voglia Rebling. Però ci siamo capiti, cioè. In più aiuti ce la facciamo. Ma certamente che ce la facciamo in tre turni. Qui addirittura in due. E' bello vedere due tipi di vittorie diverse in parallelo. E stiamo tenendo botta su entrambi. Qui mancano quattro voti. E qui iniziamo a salire. 388 scienze per turno. Abbiamo superato Joao che è il primo. Adesso però dobbiamo recuperare il gap di tecnologia. Che è forse più importante. Qui possiamo fare una nave pesante. Se riuscissi. Caccia torpediniere. A Yuno. Così metto in sicurezza anche la costa. E qui... Puff. Investimento sono commerciale. Magari ci portiamo a casa anche un grande mercante. Ok. Adesso il satellite terrestre ce l'abbiamo. E andiamo a vedere nei punti vittoria se siamo i primi oppure se qualcun altro l'ha già sbloccato. Sono curioso perché non l'ho controllato ma lo controlliamo adesso. E poi chiudiamo l'episodio così. Sì. Sì. Ambiorix ha già fatto la missilistica ma non ha lanciato il satellite terrestre. Siamo i primi a lanciare il satellite terrestre. Ma Ambiorix segue. Dai facciamo passare due turni per vedere se mettiamo da parte anche questi due voti. Proviamo a vedere se siamo bravi. Proviamo a vedere se siamo bravi. Intanto qui le abitazioni sono alte, l'attrattiva pure. Possiamo fare la Royal Society. Che cosa ci dà? Sì, i lavoratori possono usare tutte le loro cariche per produrre un progetto. Assolutamente. Memphis può fare un parco acquatico. E qui abbiamo inviato gli aiuti e facciamo un centro di radiodiffusione. Benissimo. Tanto siamo passati a 1400. Abbiamo già superato il Brasile utilizzando i nostri progetti. Adesso Suenet ne farà un altro. E visto che è l'ultimo turno, e io devo veramente aiutare Joao, il Brasile potrebbe fregarmi. Il Brasile quanti soldi ha? 400, non è tantissimo. Facciamo uno scambio. Io vado a dare 1500, no, 1500 do. E daie di donazione a Joao. E chiudiamo qui. Adesso facciamo la banca. Adesso facciamo l'Alcasar. Facciamo le nostre cosucce. E aspettiamo che passi un turno. Questa caravella intanto diventa una fantastica caccia torpediniera. La curiamo. Così la nostra flotta cresce. Ok. Congresso mondiale. È proibito a battere, eliminare le caratteristiche del terreno indicato, eliminare le caratteristiche del terreno del tipo, rende una quantità di oro pari alla produzione e al cibo. Il Kamesh e Bolivar. Mettiamo loro hanno il bosco. Consiglio militare. Le unità della classe di promozione prescelta guadagnano 5 forze di combattimento. Io voto mischia perché sono le più classiche. Il giocatore prescelto guadagna 2 punti per la vittoria diplomatica. Cleopatra con tutti i punti che può. Con 13 voti. I giochi mondiali. Di votiamo. E nel caso in cui vincessimo, un punto di vittoria diplomatica. Invia. Attenzione. Foresta pluviale. Antica valeria. E noi siamo stati oggetto di coalizione e perdiamo 2 punti di vittoria diplomatica. Però, noi manteniamo i nostri punti. I nemici li hanno bruciati tutti. Ritorniamo alla partita. Perché noi abbiamo perso 2 punti di vittoria diplomatica. Ma... Attenzione. Vinciamo 2 punti di vittoria diplomatica grazie all'evento. Il che significa che rimaniamo... Ah, adesso siamo a 14. Poi ritorniamo a 16. Poi ritorniamo a 16. E questi si sono bruciati tutti i voti. Guardate che non ne hanno più. Quindi alla prossima. E alla prossima si vedrà. Andiamo un attimo. Passiamo di turno. E abbiamo vinto. E quindi chiudiamo questo episodio con 16 punti di vittoria diplomatica. Gli avversari azzerati. E noi continuiamo a metterli da parte. Ma nel frattempo abbiamo anche fra un turno i satelliti. E possiamo lanciare lo sbarco sulla Luna immediato. E poi fare la beeline per la missione su Marte. Amici, questa partita si rivela veramente divertente. Io finisco la mia sessione che ormai sono a mezzanotte e mezza. E io mi sono fatto tutti questi episodi sempre focalizzato. Sempre cercando di intrattenervi. Un pochino fregandomeli dei commenti di chi a volte è ipercritico appositamente perché commetto delle inesattezze. Ma a me piace farlo per dimostrarvi che è rare umano ma si può risolvere tutto. Io ho un ottimo feeling per questa partita. E vi chiedo, secondo voi, vinciamo con la scienza o con la diplomazia? Oppure perdiamo? A voi le risposte. Vi auguro una buona notte a me e una buona giornata a voi. A presto.